...quella della danza classica, cioè, sanno male, quando hai una macchina, un giro, un giro, un giro, un giro, un giro, un giro, un giro... ...o lo prepari fisicamente. Quindi, quando lo prepari fisicamente, ti prendi un giro. Ma io non ho mai fatto una cosa che lo faccio con lo stressaggio, che lo scogliono alla uccia, quindi quando lo faccio, non lo scogliono. Perché c'è lì, una scuola, un calino, un passo, un salese, ma non gli autonamente, tutti, quindi che montano le bolo. Capito? ... ... ... ... ... poi piano 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 c'è uno sull'elettrizio Poi, piano piano, piano piano, sono riuscito finalmente a mettermi un giro per un bambino. Poi, piano piano, piano piano, sono riuscito finalmente a mettermi un giro per un bambino. Poi, piano piano, sono riuscito a mettermi un giro per un giro per un giro per un giro. Poi, piano piano, sono riuscito a creare. Allora, come fare la rotazione? Moio l'hai fatta ancora, l'hai fatta sempre tutta, cioè come quello con la stannichia di mezzo. E l'hai apri la osca, un bel tempo, il giro a destra, un posteriore tempo, e l'ho sconfato, e io l'ho sconfato, e quindi devo fare tutti questi esercizzi. Quando ho lasciato lo scadio e ho sciolto a fare gli esercizzi, allora io posso fare lo scadio. Un scherzi? Invece non mi hai sconfato più, non mi ho sconfato più, ma di quanto mi hai sconfato. Allora, io sono sciolto il cavallo, io non ho grade uno fa e poi ne faccio questi esercizi, che sarebbe la spalla in dentro qua c'è questo scherzo piano piano allora se tu guardi a trovare la sbattia a capo quando io ne chiamo, questo lato non tanto questo lato cerca di sbattire a capo no? quindi c'è qualcosa non tu non mi permetti un lavato sono un trenendo scemo quando ci sono pazienti quando ci sono pazienti fotografati il canale